Si diploma all'Accademia dei Filodrammatici sotto la guida di Ernesto Calindri e Teresita Fabris, e poi entra nella cooperativa teatrale, quelli del Grock, guidata da Maurizio Nichetti. La sua attività non si limita al teatro. Dopo le prime prove al cinema partecipa a numerose produzioni televisive. È diventata nota al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Giulia Crispi Blasi. Nella sopopera vivere dall'autunno 2004 fino alla sua chiusura, avvenuta nel maggio 2008.